Dopo due anni di attesa per lo stop forzato imposto dalla pandemia, torna a Ponte Dante il processo a Aveccia di metà quaresima, che Antenna 3 proporrà in diretta domani sera a partire dalle 21.15. A finire sul banco degli imputati, dell'insolita udienza, ironica e amara insieme, sarà quest'anno la Baronessa Marietta in combricola, che rappresenta i 12 mesi appena trascorsi e quello che hanno portato con sé. Tra baruffe ed apoitica, pension sempre più basse, volete sempre piccare, poca gente a pie, sempre più macchine che inquina l'aria, vigili urbani col tasser. Insomma, in meso a tutte ste robe e nonostante tutto, Zioba de metà quaresima sarà processata a nobildonna. Ad annunciarlo, come si legge nel manifesto, quei quattro tirapie che non vuol lavorare, facendosi mantenere da quei che spera che robe cambie. A inscenare il processo, il gruppo folcloristico trevigiano. Nella prima edizione, senza Franco Crespan, storico giudice, in collaborazione con SER, gruppo sommozzatori e gruppo storico Selva Nostra. Tradizione e folclore insieme, dunque. Appuntamento su Antenna 3 alle 21.15 con il processo Avizie Virtù dei Trevigiani.